Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Vi farò vedere i miei acquisti fatti da Kiko per il Black Friday A negozio vi rea la promozione che se acquistavi 6 prodotti, i 3 meno cari erano in omaggio Ne ho approfittato e ho acquistato 6 prodotti Vi faccio vedere il primo Nella collezione natalizia della Magic Holiday Ho acquistato questo rossetto, lo 01 E' un rossetto bellissimo Il pack è dorato, semplice, con le estremità bombate Qua al centro è un po' più stretto Qua vi è il logo KK La chiusura è magnetica Ma la particolarità non è questo Ma è il rossetto Guardate che spettacolo Guardate, è bellissimo E' un rossetto dal finish metallico con glitter Guardate quanto è bello Quando l'ho visto me ne sono innamorata Al suo esterno vi sono dei disegni Come se fossero dei fuochi d'artificio Vedete? Vediamo se gli scaffo e ve lo vedo Ecco qua Guardate che bello E' bellissimo Non vi posso far vedere lo swatch In quanto l'ho acquistato per regalarlo Ma tornerò al negozio E acquisterò anche quello per me Perché è veramente bello E' uno di quei rossetti da collezione Che è un peccato utilizzarlo Però ho fatto lo swatch in negozio Ed è bellissimo E' un colore molto bello Il colore è pieno, molto brillante Di questo rossetto vi era anche un'altra colorazione La colorazione 02 Ed era sul viola Poi questo ha un costo di 11,99 euro Poi ho acquistato a 9,99 euro L'illuminante della collezione permanente di Hekiko E' un illuminante che acquisto sempre E quando mi termina lo ricompro Infatti ora vi faccio vedere quello che già avevo In quanto già è quasi finito E' approfittato e l'ho ripreso E' un illuminante bello Molto bello In quanto non presenta glitter Questa è la colorazione 01 E' molto chiaro E' appunto mi piace il fatto che Non ha glitter E' facilmente modulabile Si può utilizzare in qualsiasi occasione Quindi anche ideale per la mattina Lo metto tranquillamente E' molto discreto Qua vi è scritto Illuminante in polvere Dà risultato modulabile Texture cremosa E' sfumabile Ed effettivamente è così E' molto sfumabile Non fa macchia E mi trovo appunto benissimo Vi faccio vedere La colorazione sbocciata Vedete? Questo è quasi terminato Vediamo se riesco a farvi vedere Il colore Questa è la colorazione Vedete? Allora vi faccio lo swatch Ecco così Vedete? E' un colore Perlescente Molto discreto Per la mia carnagione chiara E' l'ideale Di questa tipologia Vi sono altre due colorazioni Ve lo consiglio Perché è un prodotto molto valido Se cercate qualcosa di Non molto evidente Pieno di glitter Ma discreto Che illumini Ma non si fa appunto Vedere Non si vede la linea Netta Perché si sfuma benissimo Ve lo consiglio Poi Ho acquistato A 9,99 euro Anche questo Un prodotto Che già Ho acquistato Tempo fa Ed è Il rossetto liquido Della collezione Sisir Nut Questa è la collezione 01 Vi faccio vedere Questo rossetto Questo rossetto E' veramente Bello Io ho acquistato Altri colori Ma ho ripreso Questo colore E come vedete Vi faccio vedere Appunto Che già l'ho Perché avevo paura Che terminasse E visto che mi trovo E visto che mi trovo benissimo Da quando l'ho acquistato Metto sempre questo Me ne sono innamorata Ne ne posso fare almeno Questo è il rossetto liquido Che da una parte Ha il finish Matte E dall'altra parte Ha un finish Questo finish matte E dall'altra parte Un finish luminoso E ora vi faccio vedere Lo swatch Allora La parte matte E' una tinta Che dopo un po' Si asciuga Questa colorazione E' veramente bellissima E' un color malva E questo Quando si asciuga Si fissa Ed è molto confortevole Si può usare Sia Semplice Solamente Quella parte matte Ma anche Una volta asciutto Si può mettere Sulla parte lucida Che è questa qua Vedete E' uguale Al Al matte Quindi Lo rende ancora Più confortevole E' molto Persistente Dura tranquillamente Tutto il giorno Quindi Se uno vuole Utilizza solo il matte O solo il lucido O entrambi Io L'ho abbinato Ad una matita Che ho acquistato Nuovamente Perché già Sempre L'avevo acquistata Abbinata a questo Mi è terminato L'ho riacquistata Allora Questo Ha un costo Di 9,99 euro La matita Che ho Riacquistato Invece Ha un costo Di 5,99 euro Ed è la matita Automatica Della Kiko Questa Vedete Quelle automatiche E' la numero 405 Alla sua estremità Vi è il temperamine E lo sfumino Allora Vi faccio lo swatch Da quella che è quasi terminata Vedete Finita questa Quindi ho Ne approfittato E ho acquistato Anche questo Guardate E' un colore Perfetto E' un colore Malva Ed è perfetto Vedete E' uguale Quindi L'ho acquistata Subito Insieme Al rossetto Mi trovo benissimo Ve le consiglio Poi la matita Anche sola E' bellissima Dura Tantissimo La devo togliere Poi con lo struccante La sera Poi Ho acquistato Della collezione Party All night Questo Gloss D'è La colorazione 01 Ed è questa qua Guardate che bello Di questo Non vi posso fare vedere Lo swatch Perché ho intenzione Di regalarlo E' molto bello E' molto luminoso E' scritto Che è un lucidalabbra Perlato Per un effetto Volume Immediato Super brillante E poi Per finire A 5,99€ Ho preso Questo Piegaciglie Il mio Si è rovinato E ho voluto prendere Questo della Kiko Per provarlo Devo dire Devo dire che è molto resistente Forse un po' Rigido Ma dovrò Vedere Come si comporta A suo interno A suo interno Vi è anche un gommino Di ricambio Quindi Alla fine Per Ricapitolare I prodotti Più cari Che ho acquistato Sono Il rossetto Poi L'illuminante E il rossetto Quindi il rossetto L'ossetto liquido E l'illuminante Mentre i prodotti In omaggio Sono stati Il gloss Il piegaciglie E la matita Per questo video È tutto Se vi è piaciuto Lasciate un like Ed iscrivetevi al canale Ciao